Sì, assolutamente, un evento importantissimo che si trarà l'11 luglio, abbiamo voluto portare anche qui in Calabria la promozione di questo evento che rappresenterà quelle che sono le attività che ogni giorno le Proloco svolgono in un'unica giornata, appunto l'11 luglio 2021, giornata nazionale delle Proloco, assolutamente un evento importante dove le Proloco si dovranno mettere in piazza per realizzare, promuovere quelle che sono le attività che quotidianamente fanno in unica giornata di condivisione in unità nazionale, quindi è assolutamente importantissimo questo aspetto.